Ma lo sai che in Francia si stava sempre a parlare e le donne si dicevano un sacco di cose, si raccontavano le storie. Invece io lì ho capito che io a te non ti lascio dire quello che pensi. Per esempio, io lo so che tu non mi hai mai detto delle altre donne perché pensavi che t'avrei fatto la tragedia e forse prima era così. Però adesso sono pronta, se vuoi me lo vuoi dire? Cosa? Delle altre donne. Che vuoi che ti dica? Dai, per esempio, Michelle. È bisex. Me l'ha detto è il che. Allora? Michelle, è vero o è falso? Tanto se ti dico che è falso tu non mi credi, no? Perché non è la verità. E se ti dico che è vero? Che ci sei stato? Io lo so che ci sei stato. E so anche che non hai coraggio di dirmelo. E' vero o è falso? E' vero. E quando? Saranno anche i bambini? No. I bambini stanno fuori. Vero? I bambini, Michelle, papà vi manda fuori a giocare. E le altre? E' vero anche le altre? Spero anche le altre. Alcune cose per me sono come dei bicchieri d'acqua, te lo giuro. Mi credi, no? Non contano niente. Sì. Sì, ti credo. Prima io non lo capivo. Ma adesso lo so. Tu vai con le altre. Però vuoi bene a me. Buon, bravo.